Come sono i vantaggi e i benefici? La presenza nel mondo del nostro settore, siamo terzi al mondo come presenza di esportazione, è solo grazie perché noi siamo dei forti applicatori, sostenitori, conoscitori delle norme. È imprescindibile lo sviluppo di un paese, di un'azienda, senza conoscere il mondo delle norme, senza applicarli, soprattutto nel settore delle macchine utensili che io rappresento. Per il semplice motivo che la macchina utensile è un organo meccanico fatto da singoli componenti che devono essere costruiti tutti secondo delle norme di riferimento. E questo rispetto di norme deve essere condiviso da tutto il mondo possibilmente perché chi compra un prodotto fatto a norma deve sapere che ha la sua ripetibilità e ha un futuro dal punto di vista dell'applicazione del prodotto e poter ripiedere anche nel tempo tutti i prodotti con la stessa qualità.